Abbiamo anche i tempi contingentati, ma questo aiuta tutti a fare il proprio lavoro in maniera più sintetica. Siamo qui a rappresentare non solamente la solidarietà di Articolo 1, Movimento Democratico e Progressista, i lavoratori dei call center di Wintre, che è probabilmente un atto dovuto, ma a segnalare un fatto politico, perché per l'ennesima volta ci ritroviamo in questo Paese di fronte a un processo di esternalizzazione di un ramo d'azienda, di una grossa compagnia telefonica di comunicazioni, che si è fusa a tempo fa per coprire una parte più significativa del mercato, che gode di ottimissima salute dal punto di vista finanziario, degli incassi, dei ricavi, insomma, dell'attività che fanno, e che ha comunicato la propria volontà di procedere all'esternalizzazione dei call center. Una vicenda che riguarda 900 lavoratori in questo momento, che per l'ennesima volta, come già è capitato, c'è ampia letteratura ormai su questo, in questo Paese, rischia di mettere in pericolo sia i posti di lavoro che le garanzie per i lavoratori, garanzie che come si saprà nel mondo dei call center sono già abbastanza bassi, anche a fronte di un lavoro decisamente usurante che svolgono i lavoratori che stanno a contatto telefonico con la clientela. rischiano di perdere ulteriori garanzie e ancora una volta noi dobbiamo segnalare che in questo Paese nel quale le esternalizzazioni ce ne sono state 100.000, ancora una volta i lavoratori non hanno una garanzia concreta sulla prosecuzione né del posto di lavoro né delle garanzie contrattuali. Segnaliamo questo, che mentre 15-20 anni fa, quando iniziava questa luminosa e progressiva epopea dei call center in questo Paese avevamo a che fare con una generazione di lavoratori intorno ai 20 anni o poco più, oggi abbiamo una generazione che è la medesima, che nel frattempo comincia ad avere 35-40 anni o anche 45. Se voi andate a vedere le statistiche attuali sulla popolazione lavorativa nei call center, la stragrande parte, siamo a percentuali credo, correggimi se sbaglio, intorno al 64-67% di lavoratori che stanno tra i 39 e i 45 anni. Quindi con una difficoltà maggiore a ricollocarsi nel mondo del lavoro, con pochissime garanzie già esistenti, con un lavoro usurante diciamo che già probabilmente meriterebbe una maggiore attenzione da parte del legislatore. Allora, cosa chiediamo noi? Che il Governo di questo Paese e tutto il Parlamento si faccia carico della condizione di questi lavoratori, perché sistematicamente di fronte ai processi di esternalizzazione vengono eluse persino le normative esistenti. Che il Governo si faccia carico di imporre a queste società una responsabilità sociale, anche perché non di rado queste realtà nascono con sovvenzioni o agevolazioni di carattere pubblico, e almeno questo probabilmente dovrebbe essere richiesto a chi gode di finanziamenti pubblici in ragione del profitto che fa. Chiediamo che ci sia una tutela di persone che quando sono entrate erano dei ragazzini e probabilmente non sono riusciti a trovare un altro posto di lavoro, diciamo, e questo hanno trovato, e oggi invece sono persone, oltre che essere persone in carne ed ossa, perché non è che i ragazzini bisogna trattarli male, no? Però stiamo parlando di persone che oggi hanno una famiglia, hanno dei figli, hanno dei mutui da pagare, e per cui, diciamo, quando ci sono 900 persone che gridano aiuto e chiedono aiuto alle istituzioni, è bene che in democrazia le istituzioni rispondano. Noi siamo qui per stare a fianco, fra qualche minuto discuteremo una question time in commissione attività produttive precisamente su questo tema e vedremo che cosa ci risponderà il governo. Io qua conoscete il capogruppo Francesco Laforgia, ho qui Marianna Stara, che è una rappresentante sindacale di, insomma, Sarda in questo caso, perché 400 dei 900 lavoratori orbitano intorno all'area di Cagliari, nei call center del Cagliaritano. Io intanto darei la parola a lei per descrivere qual è effettivamente la situazione e quali sono effettivamente le paure dei lavoratori. Allora, la situazione è quella che ci è stata prospettata ai margini di una fusione con un'azienda che ha presentato dei parametri finanziari positivi, degli investimenti per quasi 7 miliardi di euro nei prossimi 5-6 anni, ma che, inspiegabilmente, decide di cedere una parte del customer care, quindi non l'intero comparto del customer, e quella che afferiva al vecchio 133, quindi ad un brand. Questo ha gettato nella disperazione le persone, tant'è che Michele correttamente parlava di 900 persone, perché all'inizio della procedura si trattava di 900 persone, ad oggi sono diventate 600, perché le persone spaventate da un futuro incerto hanno deciso di accettare le incentivazioni aziendali per fuoriuscire. Nel territorio cagliaritano in due giorni ci sono state 260 richieste di esodo. Le persone sono spaventate, perché al di là dell'outsourcer che potrebbe andare a prendere questo comparto, è logico che passare da un'azienda che si occupa di telecomunicazioni, quindi con alte professionalità che non sono solo quelle del customer, a passare in una scatola che si occupa solo di customer, che per quanto possa essere bella è solo una scatola. Non ci sono delle motivazioni reali, se iniziamo che anche le aziende che non sono in crisi, che vanno bene, che hanno degli investimenti da fare, così come sta accadendo purtroppo nel territorio, in altri settori, sempre delle TLC, che stiamo vedendo proprio qui su Roma, decidono di liberarsi della responsabilità sociale dei lavoratori, io credo che domani o dopodomani ci troveremo con un comparto che riguarda 80-90 mila persone che entrerà in crisi e questo sarà un problema per tutta l'Italia. Ecco, quindi ringrazio l'onorevole Piras e tutto il suo partito per il sostegno che ci sta dando. Questo è un problema di cui riteniamo che il Governo si deve far carico perché l'autorizzazione alla fusione è stata data anche dal Ministero dello Sviluppo Economico e le garanzie occupazionali le ha fornite Wind 3, non le fornisce l'operatore che da domani ci prenderà e quindi quelle garanzie deve continuare a fornirle Wind 3. Notizie di stampa ci dicono oltretutto che l'azienda delle TLC entrerà nell'agenda digitale, quindi ulteriori fondi di un'azienda che si sta liberando dei propri dipendenti. Grazie. Sì, non ho molto da aggiungere se non questo. Noi naturalmente terremo alta l'attenzione su questa vicenda specifica, lo faremo come preannunciava l'onorevole Piras con questa interrogazione in Commissione e lo faremo poi seguendo passo passo questa vicenda aziendale, nel caso anche chiedendo un incontro al Mise, un'apertura di un tavolo, un'interlocuzione molto forte, così come abbiamo fatto in tante altre occasioni. E quindi su questo svolgeremo il nostro ruolo. Ci sono due profili che ci stanno a cuore, che sono secondo me rappresentativi anche di tante altre storie analoghe. Il primo è quello che riguarda appunto i livelli occupazionali e la condizione dei lavoratori, persino la qualità del loro profilo professionale. Come diceva giustamente Mariana, stiamo parlando di 900 lavoratori che rischiano di entrare in una scatola vuota, quindi una terra sconosciuta dal punto di vista del loro destino di lavoratori e il loro destino professionale. Stiamo parlando, come giustamente si ricordava prima, di persone che sono entrate, hanno fatto ingresso e avevano una caratterizzazione anagrafica, diciamo erano giovani, oggi lo sono meno, ma nel frattempo non sono passati anche gli anni, ma soprattutto questi lavoratori sono stati formati, si sono qualificati, hanno un profilo professionale anche di alto livello e quindi oggi si trova una condizione nella quale tutto questo viene messo a repentaglio, si mette a repentaglio un posto di lavoro ma si mette a repentaglio anche un profilo, una qualificazione, una competenza, un bagaglio che si è formato e questo è peraltro un fenomeno molto tipico di settori come quello delle TLC e di settori, come dirò tra poco, più specificamente che riguarda il tema, il grande tema dei call center. Quindi questo è il primo profilo che noi attenzioneremo, questione occupazionale e qualità del profilo professionale. C'è una seconda riflessione, vorrei dire persino di carattere generale. Questo è un Paese che sta smantellando il suo know-how, le risorse dal punto di vista della qualità, delle competenze e lo fa con dei processi di esternalizzazione, con processi di delocalizzazione anche, che credo non siano la direzione che un grande Paese che ha a cuore un'idea di politica industriale dovrebbe intraprendere, dovrebbe fare. Questo è un tratto caratteristico di questo tempo e io credo, come giustamente si diceva prima, lo ricordava anche l'onorevole Piras, che il capitalismo nel nostro Paese debba essere investito di una nuova etica della responsabilità. Cioè, ci sono imprese che prendono anche soldi pubblici a vario titolo, che assumono lavoratori, che magari li formano, che a un certo punto utilizzano questi lavoratori come un pacchetto che si può esternalizzare o addirittura se ne disfano, licenziandoli, e poi prendono altre scelte, magari delocalizzando le sedi produttive o delocalizzando i centri del know-how, centri di ricerca, o come in questo caso, un pezzo, diciamo, del lavoro qualificato che svolgeva l'azienda. Ecco, rinvestire di una nuova etica della responsabilità un pezzo del sistema delle imprese di questo Paese vuol dire, ad esempio, che chi ha ricevuto soldi pubblici poi, se fa scelte che vanno nella direzione di sfarsi dei suoi lavoratori, almeno debba restituire buona parte di quei soldi pubblici che ha preso. Noi abbiamo presentato una proposta di legge firmata da tutti i deputati di articolo 1 sulla reintroduzione dell'articolo 18 sulle tutele per i licenziamenti disciplinari e collettivi. Se andate a leggere quella proposta di legge, a un certo punto c'è un pezzo che si riferisce esattamente a questa proposta. Cioè, chi prende soldi pubblici e poi decide di fare persino legittimamente altre scelte di delocalizzazione, di cessione di rami d'azienda, si disfa di un pezzo dei propri asset e dei propri lavoratori, beh, quelle aziende devono restituire i soldi che hanno preso. Mi sembra, diciamo, una indicazione di politica economica e industriale di buon senso, molto chiara e forse anche che risponde alla necessità di questo Paese di dover tornare a delle regole minime di chiarezza per il funzionamento appunto del sistema produttivo. Penso che questo ragionamento debba valere in generale e naturalmente vale a maggior ragione su un caso come quello che appunto stiamo seguendo molto molto da vicino e che continueremo a seguire con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione. Ci sono domande? Se c'è qualche domanda siamo qui a rispondere altrimenti vi ringraziamo per esserci stati. grazie.